Musica Buonasera a tutti, sono Mario De Nile del Tapa Rambiella Siamo in questa serata, siamo qui nella struttura del Biella Sport come potete vedere dalla gente perché stiamo presentando l'evento Tapa Rambiella Tapa Rambiella è un club, un gruppo di persone che si è ritrovato nel 2009 io e altri ragazzi con la volontà e il desiderio di correre insieme per divertirci e partecipare a varie manifestazioni sia per beneficenza che per altro questo desiderio di correre insieme e divertirsi ha fatto sì che dopo varie richieste da parte di più persone di avere occasioni di incontro per poter stare insieme, divertirsi, correre e avere delle informazioni stabilito che noi nel tempo siamo diventati anche un attimino un po' esperti sul come muoversi nel migliore dei modi per creare questo progetto Tapa Rambiella è un evento che nasce questa sera con supporto grazie di tante aziende biellesi che ci hanno dato una mano e di altri mezzi di comunicazione, non ultimo, Terzo Tempo TV che ci dà la possibilità di creare questa situazione dove questa sera è lo start-up dove presentiamo il progetto e consegniamo la maglia come potete vedere che è stata realizzata da un'azienda biellese per iniziare e ritrovarsi poi martedì 2 di aprile presso la pista dietetica di Gaglianico e lo start-up run start-up run sarà un primo momento di incontro dove con un percorso di 5 km suddiviso però in tre passaggi da 1,7 km avremo un modo di identificare le varie caratteristiche dei vari podisti ma più che podisti dei vari amici che vorranno correre con noi perché non ci sarà una gara ma saranno allenamenti collettivi dove l'obiettivo sarà iniziare col sorriso e finire col sorriso questo è il primo incontro, il secondo incontro sarà sabato 13 aprile invece in questa struttura, si partirà da questa situazione per tornare nuovamente sul percorso per la run for music un progetto nuovo dove correremo ritmo di musica come si fa nello spinning con la differenza che da un'attività statica facciamo un'attività in movimento quindi con il timing e percorrere tutti insieme abbiamo inventato uno strumento particolare dove potremo dare musica per tutte le 140 persone 140 proprio perché da un progetto iniziale che prevedeva solo 100 partecipanti siamo arrivati a 140 e purtroppo ci siamo dovuti fermare il secondo passaggio sarà per Run for Good Life il 16 aprile a Palazzo Ferrero il Comune di Biella ci ha dato questa struttura e uno dei partner che noi abbiamo insieme a noi in questo progetto, uno dei vari compagni di viaggio Run for Good Life è un convegno dove avremo il Francesco Buona della Nazionale Italiana e dell'Aeronautica Militare che parlerà del metodo di allenamento degli atleti, professionisti, Paolo Gilvetti del Global Manual Therapy che parlerà di cosa delle varie strumenti, delle varie tecniche che lui utilizza per trattare gli atleti avremo il professor Andrea Piccardi, un medico che parlerà anche lui di come si deve utilizzare vari strumenti per capire meglio qual è la metodica del fisico durante l'attività fisica e avremo la dottoressa Francesca Gelfi dell'Università di Milano, un nutrizionista in quell'evento avremo anche una sorpresa che va da sé, che non posso svelarvi perché se è una sorpresa così non sarebbe il quarto incontro sarà martedì 23 aprile al Ricetto di Candelo per un percorso outdoor quindi 5 km di sterrato, alla fine di questi 5 km nello spirito puro del Tapa Rambiella oltre a aver corso alla fine ci delizieremo con prodotti tipici locali, birra menabrea lo vedete anche dalla maglia e avremo dei formaggi, botalla, aziende locali, ripeto assolutamente aziende locali, correre vuol dire divertirsi e poi mangiare, bere qualcosa anche in compagnia, l'obiettivo è quello di star bene. L'ultimo appuntamento però vi spererò dopo ma in un secondo tempo, ripeto solo, che non è l'ultimo, sabato 27 aprile e qui invito tutti quanti, quelli che vorranno partecipare, ci troveremo alle 6 del mattino presso il campo del rugby, via Piacenza, alle 6 del mattino, avete capito bene anche se è strana questa cosa, per fare una corsa di 5 km o saranno anche 4, presso il centro storico di Biella, quindi via Italia e altre strade per poi ritornare al campo del rugby dove il Biella Rugby aprirà la sua clubhouse per offrire a tutti quanti una brio scalda del tè e un caffè per poter chiudere in allegria tutto questo evento. Grazie a tutti e arrivederci alle prossime sorprese.